bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video andiamo l'am beccato l'am beccato l'am beccato l'am beccato no non ancora non c'è una panta l'ago dirolo non c'è una panta l'ago dirolo non c'è il giro dai 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 ma che c'è sta tirando a legnar via per una motivazione molto molto semplice lo spazio di mano muore prima questo è quello che lei crede questo è quello che io so vai sia zitto non c'è non c'è non sono i fornelli monitor inizio a descrivere il prodotto inizio a descrivere questo prodotto bravi da 32 pollici g7 gaming monitor odyssey è stato disegnato per gli editori di video e per qualsiasi applicazione aziendale con con contenuti in rapido movimento offrendo un esperienza offrendo un'esperienza nitida e coinvolgente che avvolge due punti di contorni dell'occhio umano colore in ogni dettaglio a prescindere quindi buon per lui dai che diamo ma c'è un drago ti ammazzo no no di persone no ma non sono draghi muoio muoio eh ahhhh ok easy quindi brutta me attaccano ugualmente attaccano ugualmente apri la porta lei è morto dentro il raft sono entrati in due F in casa E' schifo Che schifo Ma cosa sto facendo La musca Non è una musca Non lo so ragazzi Avevo delle vespe asiatiche In casa l'anno scorso Ma che cazzo te spara No 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 ragazzi ci sono le clip Sei nell'aria Sei nell'aria E io li sento prepotenti Ma sai sempre ne Che non vinci ne Inutile che ci provi Sei nell'aria No Oh che do scusa che do scusa Oh che do scusa che do scusa Cido OI 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 Sono quattro Sono quattro Ma che cosa c***o fa Ok 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 Non sai che non le scale Ah brutta try Non le sali le scale Oh godias Salgono le montagne No 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 Aspetta F No F F F No aspetta Aspetta F F F Io oggi non gioco in questa F F F F F F Ma non è giusta questa cosa ragazzi Non è corretta raga Non può non prendere fuoco Non può non prendere fuoco Non c'è sotto per che è tutto così sporco non capisco di che cosa si è sporcato il mouse vinto andiamo il materiale rossariamo tantissimo che dobbiamo fare per forza così ragazzi ma io non so come che cazzo fai andando verso il basso fanti ma sei deficiente no cosa hai fatto adesso torni giù e mi tiri su no 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 prenditi prenditi guarda come mi pulisco bene ha già tre kill lei no no lei dico che ha vinto con tre kill sono troppo forte ho vinto con io non voglio più giocare a questo giù io non voglio più giocare a questo giù dai ragazzo dai ragazzo dormendo raga dai allora per favore dai raga non posso far finire il mouse oh adesso come la mettiamo oh in panico in panico il z no ahahahahah non sapevo cosa fare ahahah 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 mi è volato il mouse l'ho ripreso l'ho ripreso al volo andiamo ahahahahah ahahah ahhh 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 ahhhh ahhh Grazie per la visione!